Cazzo, sì lo so, siete abituati a vedere giocamessi, però purtroppo noi ci abbiamo questi e no adesso facciamo i seri perché sennò veramente si pretende molto di più da dei ragazzi che stanno dando tantissimo, io credo che i tifosi per prima se ne siano accorti perché questo bisogna pretendere questo o almeno io sono abituato ad interpretare per quello che una squadra mette in campo anche con i propri errori, oggi eravamo al di sotto con alcuni giocatori importanti di quelle che erano le prestazioni normali e la squadra ne ha risentito ma di fronte nell'ordine avevamo il Genoa e il Genoa se voi andate a vedere la tribuna non la panchina, i giocatori della tribuna del Genoa costano due campionati del Lecce, tanto per essere chiaro visto che poi interveniamo anche sulla nostra squadra quindi Genoa è un avversario difficile e abbiamo comunque colto un pareggio in rimonte in una situazione particolare e poi c'è stato qualche ospite durante la partita che oltre al Genoa pensavamo di incontrare solo il Genoa insomma e questo non è successo e quindi immaginate che valore per me ha questo pareggio enorme enorme perché quando giochi e vai sotto e non sei in una giornata brillante riesci addirittura a cinque minuti alla fine a essere in vantaggio, credo che la squadra vada solo approdita almeno per quello che è il mio giudizio. Se tu vieni al campo la prepari come me la partita, di sicuro non gli dici ho forza ragazzi col Milan perché voglio dire l'entusiasmo ci sarà, ci sarà la voglia, sappiamo di andare a vivere questa giornata, non siamo almeno io straconvinti che faremo da vittima sacrificale, è chiaro che non possiamo permetterci le distrazioni di oggi insomma tanto per essere precisi, però il gruppo mi segue, soprattutto sa capire quando sbaglia, magari non in campo però il giorno dopo lo capisce, la gente vedo che la voglio ringraziare perché oggi c'era una bellissima partecipazione, il campionato nostro non finiva oggi con la vittoria e neanche con una sconfitta e non finisce neanche col pareggio, quindi andiamo avanti, andiamo avanti, il Milan lo incontreranno anche altre squadre e se sarà forte per noi lo sarà forte come lo è stato ieri anche per altre squadre, quindi non dispi... cioè ecco io quello che vorrei appellarmi veramente, ma non... cioè non viviamo quest'altalena di situazioni emotive, cioè voglio dire entusiasmo dove sembra che qualsiasi squadra che viene qui da oggi in poi debba perdere, no, ma neanche depressione oppure scoramento, viviamo da gente che conosce il calcio e che sa che per tirarsi fuori dovrà fare fino all'ultimo secondo, lo ripeto ancora una volta, dell'ultima partita. Ma io guardate, io ho assistito per una settimana, l'avete visto tutti voi, insomma di che si è parlato, insomma voglio dire, io ho chiesto ai vostri colleghi, quelli che vanno per la maggiore, insomma voglio dire, di dedicarci non pomeriggi o serate intere ma qualche minuto, perché l'espulsione, la non espulsione è un ritorno lì, è una situazione che ancora adesso, dopo, adesso che siamo a freddo, quindi dovrei, non riesco ancora a capacitarmi di come si possa prendere una decisione del genere, poi rigore su Muriel, è un'altra decisione abbastanza, quindi se scendiamo le due cose, quindi la prestazione è in linea con il risultato, anzi, per come diciamo ci siamo proposti è un grande risultato. Certo, poi alla fine però le partite si vincono anche attraverso gli episodi e se, dico se, magari fossimo rimasti in superiorità numerica, non dico che sarebbe stato facile, però un pochino più facile visto che Kucca poi era quello che tirava da tutte le posizioni e ci ha creato tanti problemi, insomma, nel secondo tempo. A proposito di episodi, mister, quella di non mettere l'uomo sul palo su quel gol del 2-2 era una scelta o è stata una casualità, se così vogliamo chiamarla? No, noi su pallone uscire non le mettiamo perché, per esempio, in una situazione ci ha permesso di far annullare due gol, non mi ricordo in che partita, proprio in virtù di quello, c'è il pro e contro. L'uomo sul palo ce l'avevamo con la Lazio e il gol di Close era in virtù di quell'uomo che non ce la faceva uscire dal palo. Io credo che sia stato, se proprio vogliamo entrare nello specifico perché l'ho rivisto in televisione, cioè non può saltare sculli in quella maniera. Poi dopo è stato anche, non dimentichiamoci che il gol è anche un pizzico di sfortuna perché la schiena di Giacomoazzi, qualcosa del genere, quindi c'è stato, sicuramente non siamo stati così precisi, però non è una questione di uomo sul palo, insomma.